Questo piccolo prete siciliano così veniva spesso apostrofato dai suoi contemporanei è Luigi Sturso che nasce appunto a Caltagirone e piccolo lui, piccolo il centro, lontana la Sicilia ma al tempo stesso Sturso diventa uno dei protagonisti del pensiero politico e della vita politica del novecento. La sua tenacia con cui ha portato, ha traghettato il mondo cattolico che in Italia era distante, lontano dalla politica, lo ha portato a diventare protagonista e un'impresa meritoria, straordinaria che indicano appunto la forza d'animo, l'intelligenza e la lungimiranza di questo sacerdote siciliano.